Cosa cavolo è successo? Ragazzi, dove mi trovo? Trovi un buco! Vabbè, troveremo un modo per farti risalire, cavolo Kruk, aiutami! Eh sì, attento! Ma, 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 ma com'è possibile che sia andato a creare un buco proprio qua sotto? Ma sciabolette, guardate, è tutto tipo magmamoso! Oh, mamma mia! No, devo trovare un modo per andarmene via, aia, no, guarda che di questa caverna! Eh, no, no, è tutto niente, non c'è niente lì! Cavolo, mi sa che devo loro utilizzare questi blocchi messi qua! Ma cos'è, sembrava tipo una sorta di parkour! Oh sciabolette, mamma mia! Devo farlo, altrimenti sono senza speranza! Che cacchio è quel tizio? Eh? Oh, salve, Sbrizer! E tu chi cavolo sei? Io sono un diavolo e voglio assolutamente vederti soffrire! Ma per quello motivo che cosa ti ho fatto, idiota? Lasciami stare e fammi ritornare di nuovo al piano di sopra! Assolutamente no! Voglio vedere quanto te la potresti mai cavare facendo tutto questo percorso che ti ho designato! Eh, mi dispiace ma appunto in questo video potresti essere anche senza speranze! No, Sbrizerà sempre una speranza! Vieni qua che ti faccio fuori, vieni qua! Buona fortuna! Oh, anzi, buona sfortuna! Cavolo, dove vai, idiota? Oh sciabolette, non ci voglio credere! Ma chi cavolo era quel tizio, ragazzi? Oh mio Dio, era un diavolo, aveva detto! Porca miseria! Ok, se si è arrivato... Oh, mamma mia! No, 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 no! Ah! No, cavolo! Oh no, sono senza speranza davvero! Oh, cavolo no! Devo trovare un modo per... Oh, sciabolette! Ecco! Ottimo! Meno male! C'è l'acqua! Cavolo, sono davvero senza speranze! Oh mio Dio! Stavo per cadere nell'eternità! Se sei arrivato a questo video del video, scrivimi qua sotto, nei commenti, che cosa era quel tizio! Scrivimelo! Perché, secondo me, è veramente una persona orribile, porca miseria! Ok, secondo me... Secondo te era un diavolo? Un vampiro? Un lupo vannaro? Un... Non lo so... Un qualsiasi altra cosa brutta? Fammelo sapere! Oh mamma mia! Guardate! Mi ha fatto un parkour... Non ci voglio credere! Mi ha fatto un parkour che neanche funziona! Sciabolette l'ha fatto apposta, porca miseria! Per farmi imprecare! Oh mio Dio! Non ci voglio credere! Ok, devo riuscirci! Eh? Ah! Oh no! No! Ah! Cavolo! Non ci voglio credere! Mi ha fatto un parkour proprio... Che non funziona! E devo distruggerlo io e sistemarlo per me! Mamma mia! È proprio una trappola questo parkour praticamente! Che cacchio sono quei tizi? Ok! Credo che ci siamo! Devo salire qua! Ok! Ah! Oh Dio! Che cavolo! Ah! No! Sono lontani! Lontani! Idioti! Oh mamma mia! Oh no! No! Sono dei tizi magmamosi! Cavolo! 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 Devo buttarli di sotto! Devo buttarli di sotto! Devo buttarli qua! Venite! 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 Addosso! Idioti! Oh mamma mia! Devo misabuttarli veramente dalla... Dalla... Dalla fine! Aspetta! Ma questi qua respawnano! Oh no! No! Respawnano! Sono proprio senza speranze! Oh mio Dio! Magari posso utilizzare questo parkour per continuare ad andare avanti e vedere se riesco a uscirmene! Non ci voglio credere! Arrivo comunque qua! Ok però li ho un attimo seminati! Devo sbrigarmi! Devo sbrigarmi! Oh cavolo! 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 Oh mio Dio! Sono tantissimi! Oh mio Dio! Sono tantissimi! C'è un ragno lì gigante! Oh cavolo! No no no! Morite! Mannaggia voi! Eh! 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 Menomale tolgono pochissimo sti blocchettini! Aia! Basta! Basta! Idioti! Aia! Ah! Non mi sono portato verso il ragno! Aiuto! Aiuto! Io non voglio andare nel ragno! Oddio! Oddio! Fatteli fuori il ragno! Cavolo! Dammi la mano! Oh mio Dio! Cavolo! Ecco fatto! Ok! Devo ritornare! No 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 no! Ah! Mannaggia a te il ragno! Pure tu sei morto! Oddio! Dov'è? Non lo vedo più! Ah! Ah! Era salta! Ah! Perché quando salta scompare! Mannaggia a lui! Mori! Vai! Mamma mia! Ah! Non lo vedo! Non lo vedo più! Cavolo! Eh! 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 No! No! Dove è andato adesso? Eccolo qua! Aia! Aia! Mannaggia! Ancora tu! Ma basta! Ok! Oh! Aia! Mannaggia! Muori! Muori! Mi sono riuscito! Oh! Mamma mia! Oh! Cavolo! Porca miseria! È stato un casino tutto questo! Ritorniamocene indietro! Mi servono dei blocchi! Non ci voglio credere! Oh! Non ho un piccone! Non pensavo mica che... Andiamo in questa situazione così tanto orrenda e torrida! Ok! Devo ritornarmene di nuovo in superficie! Sciabolettose sciabolette! E devo spaccare praticamente i blocchi a mani dute! Ah! Devo farlo! Devo farlo! Ok! Ecco! Fatto! Ok! Comunque i miei amici mi hanno detto che troveranno un metodo! Ma ancora io sono qua! Cavolo! E non riesco a risalire! Ho tutte le unghie frantumate praticamente! Ecco fatto! Ok! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Posso rompermi un blocco magari e salire prima! Oh cavolo! Non respawna quel ragno vero? No! Spero vivamente di no! Ok! No! Non ci voglio credere! È qua! È qua! È qua! Oddio! 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 Che paura! Che paura! Che paura! Oh no! È uscito fuori! È uscito fuori! Non ci voglio credere! Ma come ho fatto di sopravvivere? Ma l'avevo fatto fuori! Aia! Mannaggia lui! Non riesco a farlo fuori! Non riesco a farlo fuori! Cavolo! Oddio! Oddio! Devo andarmi a nascondere a casa di Zoe! A casa di Zoe! Oh no! Ma Zoe! Oddio! Quanto salta! Guardate quanto salta quel ragno! Sciabolette! Sciabolette! Quel tizio veramente quando ha detto che ero senza speranza! Davvero sono senza speranza! C'è quel mostro che mi sta inseguendo! Oh mio Dio! Devo andarmene a casa di Zoe! 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 C'è un ragno gigante! C'è un ragno gigante! Armati! 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 Con qualsiasi tua possibilità! Hai dei blocchi per armarti qua! Hai un'ascia! Aspetta! Prenditi un dell'ender! Prenditi un dell'ender! Tieni! 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 Grazie! Grazie! Poi ti prendo anche una spada! Non hai un'armatura purtroppo Zoe mi sa! No! Non hai armature Zoe! Fammi controllare nella cesta segreta! Vedi vedi! Sbrigati! 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 Qua c'è un'ascia! L'ascia è forte! Oddio! È qua Zoe! Aia! Aspetta! Tranquilla! 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 Facciamolo fuori insieme! Prendi tutto! Prendi tutto! Ok! 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 Ci sei? Sei pronta? Sono la spada in ferro però possiamo farlo! Tieni! Qua c'è un'ascia! È molto più forte l'ascia! Pronta? Adesso gli andiamo addosso e lo facciamo fuori! 3! Ok! Uno è via! Dove è andato? Non lo vedo! Eccolo qua! È caduto! No! Non è caduto! Oddio! No! Non voglio ritornare lì sotto io onestamente! Dove è andato? Dove è andato? Non lo vedo! È caduto! Forse è caduto! Forse è caduto! È caduto sì! Ho visto le particelle scomparire! Oh mamma mia! Zoe! Finalmente ci sono riuscito! Ma che cavolo è successo? Non lo so! C'era questo buco qua gigante! Pieno zeppo di sti mostri! Ma poi perché? Come si è creato questo buco? Zoe! Non lo so! Mi sono svegliata sentendo un terremoto tipo! E c'era questo buco! Oh mamma mia! Che spavento! Te lo giuro! Mamma mia! Vabbè tutto bene! Quel che finisce bene Zoe! Io non me ne ritorno a casa! Ci vediamo! Va bene! Ciao! Oh mamma mia! Sciabolette! Bravo Sbriser! Dove sei? Sono qua! Eh? Dove? Fatti vedere! Mostro! Bravo! Bravo! Sei veramente coraggioso! Sei riuscito a battere quello che ti ho messo! E ti è piaciuto il parkour che non riuscivi a fare? Ma vai a fanbagno! Perché mi sarei non riusciti a costruire tu un parkour Che funziona davvero! Insolente! L'ho fatto apposta per te! Perché volevo farti soffrire! Adesso prova a porno a ritornare a casa! Cosa? Cosa? Cosa c'è a casa mia? Dai! Dai! Vai! Ha 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 ha! Cosa? Cosa ha fatto a casa mia? Oh mio Dio! Eh? Qua non ci sa... Non sembra che ci sia niente! Mmm! Cavolo! Che cosa c'è che non... Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! No! Che cavolo! La... La... Lucky! Oddio! Oddio! Fregati il mio pappagallo! Oh no sciabolette! No 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 no! Ci voglio credere! È tutto! Ma non è il mio Lucky! Ok! Devo assolutamente arrivare da lui sciabolette! Oh no 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 no! Fortuna la volta che ho delle enderpearl che posso sfruttare! Ok! Quindi... Oh no! Ci li siamo! Devo davvero ritornare di sotto! Ok! Proviamo a lanciare delle enderpearl lì! Aia! Ok ci siamo! Ok! Lucky tranquillo! Ci arrivo io! Eh eh eh! Aia! Eccoti qua! Oh mamma mia! Ok! Ecco! Devo rompere questo blocco! Non riesco a romperlo! Oh no! Aspetta! Forse sì ci sto riuscendo! Oh mamma mia! È complicatissimo! Queste sono delle sbarre normali suppongo! No! Non riesco a distruggerlo! Devo prenderlo da sotto! Ok! Oh mamma mia! Sono davvero senza speranze in questa situazione! Aia! Aiaiaiaiaiaiaia! No 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 no! Non posso permettere di catare! Ecco! Ok! Devo mettere dei blocchi così! Ok! Ci siamo! Mamma mia! Mi... Davvero sto facendo delle robe da proprio pvpr! Ok! Perfetto! Ok! Rompo adesso quel blocco di pietra senza cadere nel vuoto! Bene! E adesso devo solamente lanciare la... Andiamo per lì! No! Cavolo! 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 No! Oh mio Dio! Mancato pochissimo! Sciabolette! No! Mannaggia! Devo riuscire a beccare quella zona senza cadere! Eh! Sì! Ci sono! Lucky! Tranquillo! Ti salvo io! Ecco fatto! Oh mamma mia! Tento a non cadere! Fortuna vuole che tu puoi volare almeno! Ok! Senti! Adesso andiamo insieme! Quindi fidati di me! Allora! Cavolo! Guardate che... Ma che roba! Non si spaccano queste cose di ferro qua! Ok! Andiamo verso questa parte quindi! Ok! Con le ender per lei necessariamente io devo andare... Eh! Ok! Sono riuscito! Seguimi Lucky! Ok! Perfetto! Aia no! Aia! Ecco! Da questa parte! Vieni Lucky! Vieni! 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 Ok! Bravo! Perfetto! Ok! Devo buttare adesso lì! Ok! E qua! Oh cavolo! Dove? Oh no! Cavolo! Lucky vieni qua! Tranquillo! Adesso supereremo tutto questo ostacolo insieme! Oh sciabolette! Ok! Che cavolo è? Oh non voglio crederci che davvero vuole farmi utilizzare il rampino! Quel demente! Ok! Devo riuscirci! Eh! No! No! Aia! No! Ecco! Ok! Ci sono! Ah! 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 Ok! Dai! Dai! Ok! Ecco! Ok! Perché non mi fa dondolare come giusto che sia? Eh! Dai! 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 Ci sto riuscendo! Ci sto riuscendo! Ci sto riuscendo! Ah! Guardate! Mi ha rotto pure il rampino! Non me lo fa utilizzare per bene! Sono proprio senza speranze! Ma ci sono riuscito! Lucky! Oh mamma mia! Mi sono continuato a bruciare! Porca miseria! Fortuna vuole! Ci siamo riusciti! Eh! Per quello motivo avevo gli occhi bianchi! Oh no! 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 Non posso essere senza davvero speranze! Devo riuscirci! Devo... Dai Lucky! Andiamo insieme! Andiamo insieme! Manca poco! Manca poco e siamo usciti! E questo incubo è finito! E questo incubo è finito! Ok! Ah! Oh! Eh? Cosa? Ma... Ma prima non era... Aspetta! Perché il cielo è tutto quanto rosso? No! Non dirmi che... Stai andando da toccare... Dei miei amici! Lucky! Sbrigati! Vieni con me! Oh mamma mia! Vola verso casa! Vola verso casa! Sbrigati! Oh mamma mia! Ok! Ok! Sta volando verso casa! Affortunatamente! Ok! Oh no! 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 Eh? Cosa? Che diavolo? Perché c'è tutto quel fumo? Oh mio Dio! Che... Che... Qual è la casa che sta bruciando? Mamma mia! Non ci voglio credere! No! 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 Ti prego! Ti prego! Dimmi che non è vero! Crucco! Eh! Tranquillo! Ti do una mano! Amico mio! Sbrigati! Oh mio Dio! Cavolo casa mia! È così a cavolo! Ho preso fata tutto! Crucco! Dobbiamo spegnere! Dobbiamo spegnere tutto completamente! Ci sto provando! Non ho l'acqua e sparire l'acqua di tutte le ceste! Oh mamma mia! Cavolo! 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 Dobbiamo assolutamente ripulire tutto! Crucco! Altrimenti potrebbe veramente scomparire per sempre a casa tua! Sì! Ci sto provando! Sono più velocemente possibile! Io... Io non ci voglio credere! Crucco! Hai capito cosa cavolo è successo? No! Sì! Sto più capendo nulla! Un diavolo! Mi ha praticamente sfidato! Cosa? Sì! E che diavolo c'entro io? Non lo so! Forse vuole fare del male a tutto quello che mi è più caro! Ah! Maledizione! Ok! Tranquillo! Tranquillo! Stiamo asciugando! Oh mamma mia! Va tutto bene! Va tutto bene! No! Mi ha preso... Mi ha preso pure l'achila prima! Grucco! Cosa? Sì! Te lo giuro! Ma che cosa vuole? Cioè! Perché rompe così tanto le scatole? Non è una più pallida idea! Ok! Sto bruciando! Tranquillo! Tranquillo! Tanto stiamo per finire! Manca poco! Abbiamo ripulito tutto quanto il fuoco! Ok! Spegniamolo! Continua a spegnare! Mamma mia! Guarda il tetto con tutti questi buchi! Molto bene! Ora è molto meglio! Ma cavolo! Ha bucato tutto! Ma ce ne sta ancora credo! Sì! Ce ne sta ancora qua! Verso questa parte non riesco a spegnerlo questo! Ok! Fatto! L'ho sistemato! Qu'è andato! Ok! Grucco! Mamma mia! Ci siamo riusciti! Guarda! C'è tutto il cielo rosso! Per quale motivo? Non ho idea! Oh cacca! Ma fortunata che la cucina si è salvata! Ti giuro! Non so perché! Ma prima! Questo rampino funzionava malissimo! Ogni volta me lo staccava quando lo poggiavo sulle... Cosa? Sì! Sì! E non solo questo! Ma un sacco di cose praticamente non andavano bene! Anche il parkour che mi ha fatto era tutta una trappola! Grucco! Una delle cose che non funzionavano! Strano! E quindi mi hai fatto a sopravvivere! Sembrerebbe che stia provando a corrompere il mondo quel cavolo di diavolo! Facendo sì che magari possa darmi tanta tanta noia! Dovevo fare qualcosa per risolvere questa situazione! Giusto! Ma come possiamo fermare il diavolo parche miseria? Non ho idea! Con un patto! Non so come funzionano queste cose! No! Non credo che lui voglia fare un patto! Oh! Assolutamente sì! Voglio fare un patto! Eh? Oddio! È qua! Eh? Oh cavolo! Eh... Senti ok! Voglio fare un patto con te! Facciamo che... Finiamo nel... Tu finisci nel darci noia! Nel distruggere tutto quanto il mondo! Eh... 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 Eh te lo dico io cosa voglio in cambio! Sì! Cosa vuoi? Voglio tutte le case dei tuoi amici FRZ! Cosa? Cosa? Tutte le case! Ryan! Evie! Violet! Meg! Ma... Ma... Tranne tu, Crucco e Luxezoe! Ah! E voglio vedere quanto siete bravi a cavarvela! Così in pochi! Eh... Eh... Crucco? Ma... Secondo me si potrebbe provare! No! Che... Non ho idea! Proviamoci! Eh... Eh va bene! Facciamo questo patto! E patto sia! Le rimuoverò una a una! Ok! Va bene! Eh... Eh... Hai fatto un patto! Andiamo alla prossima casa! No! Oh mio Dio! No! 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 Oh no! Sto distruggendo tutte le case! Tutte! Non ne sto lasciando una! Forse solamente la mia! Quella di Elox, Crucco e Zoe! No! 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 La casa di Evie! Buone! Molto molto bene! Oh sì! Ah 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 ah! La casa di Meg! No! Le torte di Meg! Mi mancheranno! Tutti i suoi ingredienti! No! No! Andiamo alla prossima! La casa di Violet! Oh cavolo! L'ha distrutta! L'ha distrutta pure! Hai smesso? Ti può bastare? Sì! Sì sì! Credo che possa bastare! Addio Sbizar! E buona fortuna con i tuoi pochi amici! Oh no! È ritornato tutto normale però! Crucco! 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 Sbri! Oh cavolo! Aspetta! Mi ti le ho tolto anche tutte le altre case! Sì! Le ho tolte tutte e le ho lasciate solamente nei quattro! Cavolo! Adesso come facciamo? Non lo so! Oh ma meglio tutta l'armatura sfinita! Guardate! Almeno ce ne siamo liberati! Ha tolto casa di Evie! Casa di Meg! Casa di Violet! Casa di Ryan! Siamo rimasti solo nei quattro e dobbiamo sconfiggere quel diavolo! Crucco! Non c'è speranza! Cosa? Sì! Come fare scusa? In qualche modo ci riusciremo! Uniremo tutte e quattro le nostre forze! Crucco! E riusciremo a sconfiggere quel maledettissimo diavolo! Che se lo merita! Va bene! Vediamo cosa possiamo fare! Giusto! Innanzitutto Crucco! Quello che dobbiamo fare è sistemare casa di Zoe! Oh mamma mia! E anche casa tua! Sì casa tua pure! Oh mamma mia guarda è rimasto tutto sciabolette! Allora dobbiamo armarci Crucco! Dobbiamo fare... Dobbiamo trovare un modo per armarci completamente! E utilizzare tutto quello che abbiamo per andare contro a questo cavolo di diavolo! Ok? Dobbiamo vedere prima dove si trova questo tipo! Perché io non sarò senza speranza! Non lo sarò fin quando respirerò sciabolette! Va bene ok! Bene! Mi raccomando! Sei sicuro di voler fare quello che dico io? Ehm... Perché se ti vuoi dire no cosa ottengo? Beh niente dovrei farlo per forza! Ok! Non l'ho visto! Ok! Molto bene! Ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando clicca uno di questi video e soprattutto dillo tu Crucco! Iscriviti e attivate la camponellina! Esatto! E nel Cepiciamo in un prossimo e nuovissimo video! Ci si becca! Ciao ciao! Ciao!